Ciao leggine, ciao leggini! Oggi voglio dissipare tre dubbi comuni che spesso mi chiedete sulle letture dei tarocchi. Chi non si è mai avvicinato ai tarocchi, ha mai pensato di farsi leggere i tarocchi, so che molti di voi leggono i tarocchi, a moltissimi glielo ho letto io i tarocchi, insomma si parla di tarocchi. Tre dubbi che però moltissime persone, anche alle prime armi, si pongono rispetto a una lettura. Andiamoli a vedere subito. Il primo è che ci si chiede se l'esito delle carte possa essere influenzato da quello che il consultante desidera. E a questo punto, se così fosse, come fanno a fidarsi, come si può fidare di quello che dicono le carte? È molto difficile distaccarsi completamente dai propri desideri e dalle proprie paure per essere sicuri di non influenzare il risultato. Secondo me qui bisogna fare innanzitutto una distinzione molto importante. I tarocchi non sono influenzabili così tanto, nel senso che non è che se io voglio una cosa i tarocchi mi dicono quello. Sarebbe troppo bello e soprattutto non sarebbero utili i tarocchi. Nel senso che sì, ok, ricevi il contentino in quella lettura, però il grande consiglio che ti danno i tarocchi, che è la cosa più importante, non si ha. Innanzitutto io ribadisco che i tarocchi sono qualcosa di sacro, cioè sono uno strumento per cui parsa il divino. Perché si fa divina azione, quindi io sono di questo concetto. Quindi secondo me bisogna rapportarsi ai tarocchi in un certo modo, ossia in un modo di rispetto. Si va al cospetto di uno strumento attraverso cui passa il divino, scegliete voi che tipo di divino, ma quindi andate a ricevere un qualcosa che vi è utile. Il punto però qual è? Secondo me non è tanto che l'ho andata a influenzare, io voglio che quella persona ritorna e i tarocchi mi dicono che ritorna. Non è così. Quello che succede, e questo se vi andate a far fare una lettura, pensate bene alla domanda da fare perché i tarocchi sono uno strumento energetico e quindi possono captare la vera domanda. È capitato, ho visto capitare molte volte, sia a letture mie che in altre persone, che i tarocchi rispondono a quella che è la vera domanda del cuore. Mi è capitato di una persona che mi diceva, allora ho due domande, una ad amore e una di lavoro. Diceva, faccio prima quella di lavoro perché è più importante, perché non hai lavoro, bisogna di soldi, bla bla bla. Era una giustificazione mentale, in realtà la sua vibrazione principale era sull'amore, lei voleva sapere la questione con la persona che gli interessava. E quindi i tarocchi hanno iniziato a dare delle risposte che stavano rispondendo a quella che era la vera domanda che lei voleva fare e non aveva posto. A questo punto servono due cose. Può essere, uno, la fiducia verso lo strumento. Perché? Perché la cartomante, l'elettrice di carte è un mezzo. Quindi se voi fate male la domanda, l'elettrice di carte può partire con una spiegazione che apparentemente è corretta, perché è quello che le carte dicono. E quindi sta al consultante capire che stanno rispondendo a qualcos'altro. Quindi il mio più grande consiglio in questo caso è riflettete sulle domande che ponete nel momento in cui prenotate una seduta di tarocchi e fatele in ordine della vostra importanza. Cioè se voi la cosa che più vi preme è sapere come andrà con quella persona, fate quella come prima domanda. Ok? Perché le carte tanto risponderanno a quelle. Cioè nel senso che le carte sono uno strumento attraverso cui passa il flusso del divino e rispondono anche molto alla vibrazione. Quindi siate onesti, fate le domande fatte bene e aiutate la lettura a venire meglio. Perché la cartomante, l'elettrice di carte in questo caso è un canale. Quindi più voi, come dire, la portate di fronte alla cosa giusta da canalizzare, più il suo aiuto viene ottimizzato. Quindi più che altro è questo. Non è che voi influenzate l'informazione, ma è che dovete fare la giusta domanda perché sennò rischiate appunto che le carte rispondano ad un'altra domanda che in realtà non avete posto, ma che la cartomante non può sapere perché lei si attiene. Ok? Quindi questo secondo me è la prima grande cosa. Quindi se decidete di farvi leggere le carte, fate domande precise. Per esempio, se volete sapere se quella persona, non so, magari avrà quel determinato comportamento, non chiedete come andrà tra me quella persona, ma chiedete farà questa cosa? Perché sono due domande molto differenti. Voi dovete capire che ogni arcano, ogni carta dentro ha miliardi di significati. Quindi più la domanda è precisa, più anche la risposta sarà pertinente. Quindi questo è il primo dubbio. E a questo punto vi potete fidare assolutamente dei tarocchi, nel senso che i tarocchi prevedono le cose e in base alla domanda voi riuscite a capire meglio che cosa vi hanno detto. Mi è capitato anche appunto, proprio anche personalmente, che ormai mi fido talmente tanto dei tarocchi, che anche quando mi dicono qualcosa, che lì per lì, quando li leggo per me stessa, o capita che da qualche amica me li faccia leggere, anche se è raro, però succede, qualunque cosa mi dicono, io la accolgo e la tengo lì e ci rifletto, perché evidentemente mi stanno dicendo anche qualcosa a cui io da sola non arrivo, perché se ci arrivavo da sola che senso aveva farmi leggere i tarocchi? Quello deve essere un aiuto in più. Quindi qualunque cosa vi dicano, innanzitutto se già vi rapportate scettici e già volete in un certo senso essere convinti dai tarocchi, non è il giusto approccio, perché chiaramente al tarocco non interessa convincervi, il tarocco anzi vi sta parlando di un qualcosa che esce dalla vostra zona di comfort, quindi più voi siete specifici, più voi siete precisi, più voi siete peculiari nelle vostre domande, più il tarocco funziona. Io ho una persona, nel rispetto della sua privacy non dirò nient'altro, sarà una persona che mi fa delle domande quando me le manda, sono iper precisissime e le mie letture sono con lui, ok, ora sapete, sono ultrasintetiche, perché chiaramente le carte rispondono ta 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 e via si va, cioè sono domande iper puntate, iper mirate, quindi questo è un consiglio e a quel punto vi potete fidare, perché ripeto un conto è che voi dite quella persona farà quella cosa, ok, quindi quella determinata cosa, in conto è che come andrà tra me quella persona, i tarocchi li possono darti tantissime risposte, come andrà, andrà bene, andrà male, ci sarà questo, ci sarà quello, e possono puntare l'attenzione su quello che loro reputano la cosa più importante, che probabilmente lo è, però non è la vostra, e quindi avendovi una focalizzazione, i tarocchi un'altra focalizzazione, potrebbe essere che le risposte non coincidono, ok, a quello che avevate in mente, per questo il primo grande dubbio viene dissipato con delle risposte, con delle domande mirate, ok? Secondo dubbio, se ci si fa leggere le carte troppo spesso, l'universo smette di rispondere, oppure ti risponde quello che ti vuoi sentir dire, quanto bisogna aspettare tra una lettura e l'altra? Allora, i tarocchi non è che ti rispondono quello che ti vuoi sentire dire, ripeto, possono smettere di rispondere, ma nel senso che sì, può succedere, se fai letture una dietro l'altra, perché? Perché, ripeto, sono un oggetto sacro, quindi a un certo punto è come se tu chiedessi a una tua amica, alla tua migliore amica, gli vuoi bene, la rispetti, ti fidi, e ogni volta gli fai, tipo, che ne so, che consiglio mi dai sul lavoro, il giorno, che consiglio mi dai sul lavoro, il terzo giorno, che consiglio mi dai sul lavoro, voi dovete immaginare i tarocchi come un qualcosa di vivo, anche la migliore amica, la persona che vi vuole più bene al mondo, la terza volta, la quarta volta, la quinta volta, vi fate la stessa domanda e dice, scusa, ma io ti ho risposto, perché non ascolti le mie risposte, perché non lavori su quelle? Allora, quando è che si possono fare i, quando si può rifare una lettura? Nel momento in cui qualcosa si è mosso, sì, perché i tarocchi, in realtà, la vera funzione, è una funzione, perlomeno per come leggo io, ma ora nel dubbio successivo ve lo spiego, sono uno strumento di evoluzione, quindi non è tanto succede questo a posto, c'è sempre il libero arbitrio, c'è sempre la scelta, questa resta alla persona, e soprattutto se le vostre domande includono un'altra persona, anche quella persona è libera, quindi da quello che indicano i tarocchi, che è un potenziale, a quello che si va poi a manifestare, ci possono essere dei cambiamenti che sono dati dalle scelte che hanno fatto le persone nel mentre, quindi molto spesso i tarocchi sono dei consiglieri, quindi i tarocchi magari ti dicono fai questa cosa, e tu puoi rileggere le carte nel momento in cui l'hai fatta, oppure a volte dicono aspetta, i tempi non sono maturi, se tu non fai maturare i tempi, ti diranno aspetta, ok, quindi in realtà un po' questa cosa è vera, ma è vera perché o ti ridicono sempre la stessa cosa, però sì a un certo punto possono scocciarsi, perché comunque è una mancanza di rispetto, ripeto quello che ho detto all'inizio, i tarocchi sono uno strumento sacro, cioè voi quando vi rivolgete ai tarocchi, voi comunque state scomodando una entità, una divinità, che possono essere gli angeli, possono essere un dio, o una dea di profezia, cioè ma comunque o a chi avete consacrato il mazzo, però ho l'universo stesso, quindi non è che vi fa un dispetto, però voi gli state un po' mancando di rispetto, anche perché probabilmente vi ha risposto la prima volta. Io mi ricordo una volta che ho fatto una lettura e mi è stato chiesto come posso fare a raggiungere questo risultato, e io ho detto mi raccomando la prima cosa che devi fare è non discutere con il tuo partner in affari. La persona mi chiama il giorno dopo e fa possiamo fare un'altra lettura, devo rifare, che domanda vuoi fare la stessa? E ho detto scusa ma come è andata colpa? Ci ho discusso, ho detto ok, e quindi dice no adesso devo recuperare la situazione, ok, allora ha preso coscienza e abbiamo potuto fare un'altra lettura, perché? Perché aveva capito di non aver seguito i tarocchi e di aver sbagliato in un certo senso, avrebbe dovuto seguirli. Allora lì c'è consapevolezza e ok, perché i tarocchi hanno dato un altro consiglio, ossia recuperare prima quella situazione per poterla poi riportare su quella linea che avrebbe portato la soluzione sperata o almeno messo il potenziale. Quindi con i tarocchi si lavora in una sorta di prospettiva, anche quando magari si dice no, quella persona ritorna, si ritorna, ma ci sono spesso delle, come dire, ci sono a volte, non sempre, a volte dice sì, è fatta, capita proprio, guarda fate pace e stai per ricevere la chiamata può succedere. Altre volte però i tarocchi dicono guarda bisogna fare questo, questo, questo e questo, perché? Perché sono i passaggi che vi direbbe anche non so magari un terapista di coppia o qualcuno, cioè sono dei passaggi necessari fino a che si riallineino le energie e finché quelle energie non si riallinano non ci può essere un riavvicinamento, a volte lo dicono proprio, guarda ci può stare un riavvicinamento ma al primo magari discussione e poi ti esce la torre quindi scoppia tutto. Quindi i tarocchi voi vi dovete fidare e potete rifare letture, potete fare, di questo ve lo dico perché spesso mi piace, ho fatto la lettura con un'altra persona, posso farla anche con te, cioè nel senso fatela, però sappiate che il flusso è quello, cioè se comunque la fiducia anche in chi vi legge le carte è importante, quindi dovete poi rivolgervi a qualcuno di cui vi fidate. Se la persona che legge le carte non riesce a conquistare la vostra fiducia allora aspettate, non ve le fate leggere perché farsi leggere le carte per poi dubitare è ok che voi state dubitando della persona però in un certo senso poi state dubitando anche dell'energia della divina azione che è passata attraverso quel canale. Quindi ricordatevi sempre appunto come vi dicevo che i tarocchi sono uno strumento sacro nell'antichità quando i re i condottieri o le regine andavano da un oracolo a farsi predire delle cose e l'oracolo gli diceva per sommi capi delle informazioni mai si sarebbero pensati di dirgli tipo eh no vabbè non mi fido ma vado da un altro cioè si sarebbe scatenata l'era degli dèi quindi oggi le cose sono cambiate è un po' scemato questo tipo di potere però il rispetto allo strumento io vi consiglio di portarlo sempre perché se no che senso ha farsi leggere le carte non lo so cioè questa è la mia opinione poi scrivetemi nei commenti anche la vostra perché questi video sono sempre per parlarne insieme ultimo dubbio allora che differenza c'è tra lettura di tarocchi tarot coaching e lettura delle carte degli angeli allora sono tre cose differenti ma simili ma differenti la lettura di carte e la lettura di tarocchi è quella classica no? e ci sono molti approcci abbiamo visto anche nel t-factor nella torneo di tarocchi abbiamo visto partecipare otto partecipanti e abbiamo visto che hanno otto modi di leggere le carte differenti quindi una lettura di carte è il tarocco il modo di leggere i tarocchi classici classicamente in cui c'è questo diciamo tipo di previsione della situazione anche chi più chi meno qui le carte avanti e le letture di carte sono un po' divisi chi legge pure molto sul futuro chi ha un approccio differente che è quello del lavoriamo più sul presente perché il futuro è potenziale da questo secondo distaccamento è nato il tarot coaching che è una nuova figura e io appunto ci ho fatto un corso proprio per aiutare moltissime delle persone che vogliono lavorare in questo approccio nuovo ai tarocchi come strumento di aiuto di evoluzione di lavoro su se stessi e sul presente perché? perché i tarocchi e tantissimi sono per esempio anche gli psicologi i terapeuti che stanno iniziando ad utilizzare i tarocchi come strumento sia per le immagini che portano che per i moltissimi significati che hanno strumento di evoluzione quindi una seduta di tarot coaching è differente perché si pone la domanda ma si lavora molto sulla costruzione di un presente quindi si possono porre ad esempio domande d'amore ma sarà un lavoro da fare su se stessi per portare un lavoro di coppia una crescita di coppia quindi non sarà solo non so faccio conto la domanda tipica questa persona torna ma come faccio cioè se torna come la gestiamo poi perché se se ne è andata c'era una problematicità sotto la cosa posso fare cosa possiamo fare insieme quindi ci sta diciamo il tarot coaching ha una lavorazione sotto molto più concentrata sul presente quindi sul miglioramento della persona anche perché chiaramente qui stiamo parlando di un qualcosa di olistico e quindi se magari queste storie si ripetono sempre con la stessa dinamica probabilmente ci sta un qualcosa di karmico che va un attimo lavorato e quindi con il tarot coaching attraverso l'utilizzo degli arcani quindi il potere del divino che si è trasformato come vedete anche anch'esso nei secoli si vanno a lavorare quelle che sono appunto i punti più deboli per rafforzarli un pochino quindi il tarot coaching è uno strumento più evoluzionistico le letture delle carte degli angeli invece sono tutta altra cosa e perché perché a rispondere sono gli angeli quindi non abbiamo i tarocchi come nei casi precedenti non si usano i tarocchi a meno che non si usano dei tarocchi angelici però in quel caso come avete visto nei miei corsi anche nel corso base di tarocchi uso sia un tarocco classico che sono i visconti e sia i tarocchi degli angeli proprio per far vedere che a livello di viaggio cosmico dell'uomo sono la stessa cosa cambiano le immagini diverso discorso è quando si usa un oracolo angelico lì io quando faccio le letture angeliche contatto gli angeli custodi e le guide della persona che si rivolge a me attraverso i miei angeli gli porto i messaggi che mi mandano che mi manda l'oracolo quindi è un'esperienza differente danno dei consigli danno dei consigli elevati gli angeli quindi la cosa tipo non so faccio conto mi richiama entro breve tempo domande di questo tipo con gli angeli è molto difficile perché hanno un tempo tutto loro hanno dei modi di risoluzione consigliano molto risoluzioni artistiche o molto di guarigione personale cioè chiaramente chi lavora con gli angeli poi lo sa è un tipo di energia più elevato no più elevato in senso che con le detarocchi è basso quello dei tarocchi è più pragmatico quello degli angeli è più angelico ci sta quindi sono tre semplicemente tre approcci diversi alle stesse domande si possono fare la stessa domanda per esempio le domande d'amore o le domande sul lavoro si possono fare a tutte e tre le tipologie quindi nella lettura di tarocchi classica nel tarot coaching appunto come spiego nel mio corso sotto vi metto il link per chi volesse diventare tarot coach e imparare a tenere sedute di tarot coaching e quindi portare il suo modo di leggere ad uno step differente più evoluzionistico si andrà ad analizzare per esempio i pro e contro di una situazione i punti deboli i punti di forza si andranno a rafforzare quelli per riuscire a portare dei risultati concreti chi invece sceglie le letture angeliche avrà un approccio più di sostegno da parte dei propri angeli perché poi le letture angeliche arrivano dagli angeli custodi solitamente o dalle guide di quella persona quindi sono tre modi diciamo differenti di ricevere risposte immaginate proprio come se da una parte andaste da tre amici io faccio sempre questa metafora degli amici però rende o da tre gruppi di amici in questo caso differenti quindi un gruppo più diciamo più così più tradizionalista o più così un gruppo più coach quindi tipo motivazionale è un gruppo più angelico e quindi di sostegno di consiglio quindi diciamo che sono le modalità che cambiano ma le domande possono rimanere quelle allora mi sono un po' dilungata però so che sono dubbi che spesso le persone si pongono prima di farsi fare una lettura e quindi ci tenevo a chiarire questi punti spero di essere stata chiara se questo video ti è piaciuto regalaci un like se non si è iscritta al canale youtube delle leggi della magia fallo subito e il link per il corso a tarot coaching lo trovi sotto ciao ti saluto e tanta tanta tantissima luce ciao